Le prime multe nella città di Salerno sono scattate questa mattina in via Vinci Prova alle fermate del terminal bus del quartiere Irno nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo decreto che ha portato all'obbligo del Green Pass base per utilizzare i mezzi pubblici e del Super Green Pass. Dalle ore 7 di questa mattina sono scattate le verifiche con un vero e proprio controllo a tappeto da parte delle forze dell'ordine. Battuglie miste in diversi punti della città di Salerno, dal capolinea di via Vinci Prova alla stazione di Salerno alle fermate di piazza Malta e piazza San Francesco nonché nella zona orientale della città. La divisione della polizia amministrativa della questura di Salerno ha coordinato il servizio di una task force con gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, la sezione anticrimine e commissariato Torrione. Durante i controlli del Green Pass per i passeggeri di bus in discesa i poliziotti hanno sanzionato due persone che appena scese dal mezzo di trasporto quando gli è stato chiesto di esibire il certificato verde ne sono risultate sprovviste. Per l'infrazione commessa è scattata una sanzione di 373 euro. Stupore e perplessità tra i cittadini che questa mattina, seppur a conoscenza delle entrate in vigore delle nuove regole, non si aspettavano di trovare la task force dei controlli. Tutti comunque hanno mostrato senza difficoltà il Green Pass, soddisfatti apprezzando la presenza di uomini in divisa in campo per far rispettare le regole. Si aspettava questa mattina tutti questi controlli della polizia? No, no, assolutamente no. Infatti sono rimasti abbastanza sorpresi. Ci hanno controllato sia il Green Pass sia i biglietti, eccetera. Mi viene che sia un'azione giusta? Assolutamente sì, anche perché effettivamente con tutti questi casi è abbastanza positivo che ci sia tutta questa forza dell'ordine a controllarci. In un momento ancora a noi non ci hanno controllato, comunque penso che è giusto, no? È giusto che tutti ci dobbiamo vaccinare, così siamo più liberi, più sereni. Lei in arrivo o in partenza? In partenza? Più controlli, ma è giusto così. Ci sentiamo anche un po' più sicuri di viaggiare, di entrare nei locali. È meglio che tutti ci vacciniamo. Appena controllati il Green Pass? Sì, tutto bene. Mi hanno controllato il Green Pass e mi hanno detto che sono a posto. Ti aspettavi questi controlli qui alla stazione stamattina? Sì. Penso che è una cosa buona controllare, vedere chi è in Green Pass o chi no. Perché sinceramente oggi dobbiamo stare un po' più attenti. Ora il controllo a Salerno, avevi avuto precedentemente un altro controllo stamattina? Sì, a Napoli ho avuto il controllo normale, documenti e Green Pass. Io avevo tutto. Aria regolare, tutto regolare, Green Passata. Si aspettava questo controllo stamattina? No, devo dire la verità, no. Ma per la questione del super Green Pass, e vabbè, niente, dobbiamo seguire le regole. Controlli alle fermate dei bus urbani ed extraurbani, ma anche alla stazione ferroviaria di Salerno, dove non solo il personale di stazione garantiva il controllo dei passeggeri in ingresso ai tornelli, ma anche all'esterno con la presenza di polizi e carabinieri, per quanti erano appena scesi dal convoglio. Le verifiche sono partite oggi, ma continueranno a campione, sia per i viaggiatori sui mezzi pubblici, sia per i locali, in particolare nei ristoranti e bar. Come ha chiarito ai nostri microfoni il capitano Paolo Cristinziano, alla guida della compagnia Carabinieri di Salerno. Sta andando bene i controlli che abbiamo iniziato questa mattina, che comunque continueranno anche questo pomeriggio, soprattutto poi in quelle che sono le fasce anche pomeridiane e serali. Al momento non abbiamo rilevato ancora nessuna violazione, quindi vuol dire che la norma è stata ben recepita dai cittadini e quindi dai vari utenti. I controlli continueranno per tutto il tempo, sono controlli che abbiamo già messo in campo nei mesi precedenti e quindi siamo abbastanza ben orientati e molto dinamici da questo punto di vista. Oggi controlli a tappeto, soprattutto nei pressi delle stazioni, fermate dei pullman, ma nelle prossime ore continueranno anche in vista del Ponte dell'Immacolata, soprattutto per gli esercizi pubblici. Parliamo di bar e di ristoranti. Sì, come dicevo prima, sicuramente le intensificheremo anche nei prossimi giorni e nella fascia serale è evidente che ci concentreremo molto magari sugli esercizi commerciali, soprattutto perché domani è l'antivigilia dell'Immacolata e quindi ci attendiamo il 7, l'8 e poi anche per il fine settimana un aumento dei turisti. Quindi faremo i controlli, soprattutto concentrandoci in alcune zone e su alcuni obiettivi. Obiettivi ovviamente quelli della Movida? Anche quelli della Movida che restano comunque obiettivi sensibili in modo particolare soprattutto il fine settimana, ma ripeto anche adesso che ci avviciniamo all'Immacolata. Quindi sappiamo che ci sarà un aumento dell'utenza e siamo pronti ad affrontare questi controlli. Grazie. 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 Grazie.